La criminalità organizzata a Bari evidenzia una struttura di tipo camorristico, un contesto destabilizzato da frequenti spaccature. Lo si legge nella relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia nei primi sei mesi del 2022, dove si sottolinea come a Bari la criminalità organizzata sia capace di insinuarsi all'interno degli enti locali condizionando l'attività della pubblica amministrazione. oltre a quella del capoluogo, la relazione individua in Puglia altri due scenari, quello della mafia foggiana e della Sacra Corona Unita, tre realtà diverse tra loro e secondo la DIA ben radicate nei territori di riferimento.